ragazzi si avvicina il momento stiamo aspettando praticamente questa rottura qui mi vado a segnare il punto quasi esatto eccolo qui stiamo aspettando questa rottura non so se si vedrà magari ve lo zoom di xao quindi ci siamo quasi ho fatto già qualche operazione da stamattina veramente molto bene però come vi dicevo nel video precedente qui stiamo sfruttando un conto di ftmo tra virgolette test che già avremmo dovuto superare quindi come prima fase però ho detto vabbè portiamolo un po avanti vediamo di riuscire a fare aumentare le statistiche giusto per curiosità per tenere una tracciabilità di quello che è questa operatività e poi per vedere se riesco a scalare le prop quindi niente ovviamente io in tempo reale la sto facendo anche qui su axi non so se si vede ecco cooperazione da 0 10 questo qui è un conto di axi sono pronto perché le devo fare insieme questa da telefono e questa da pc per farvi vedere come entro in tempo reale se ce ne da ovviamente occasione io ho un altro monitor qua con un altro grafico perché in realtà sto tenendo d'occhio anche altri pair però niente che mi faccia impazzire forse quello più vicino a un a quello che ci serve forse proprio xau quindi vediamo vediamo questa mattina su axi sono esattamente in questo momento che vi dico sono a 58 euro e 97 di profitto quindi diciamo che abbiamo anche un po di margine in tasca da da far fruttare manca un minuto e 45 alla chiusura di questa candela vediamo cosa riesco a fare questa sede ormai è distrutta eccolo un minuto e 19 secondo me ha già forza per salire sono sincero quindi potevamo anche entrare un po prima però non mi va ah su ftmo cioè su questo qui su metatrader che vedete non farò una singola entrata come faccio su axi quindi adesso su axi entrerò con 0.10 singola entry su ftmo andrò a scaglionare con tante tante operazioni quindi anzi io direi a questo punto mancano 52 secondi no devo aspettare forza la chiusura perché se questo rifiuta ci fa un brutto giochetto comunque sia ecco qua voglio cambiare perché sennò poi mi rovina i dati sulla consistenza quindi devo entrare con 0.02 piuttosto faccio 10 20 operazioni da 0.02 poi le chiudo in blocco però over 0.02 basta cioè considerate come sono conservativo anche sulle prop perché solitamente magari prop da 10 anche quella da 100.000 non so se avete visto il video lì vado ad operare con 0.05 cioè è vero che faccio tante operazioni quindi magari 10 sono uno 0.50 però una prop da 100k voi direte ma come ok questa non mi piace come aperto adesso si sta rendendo più simpatica però non questo non è l'ok per entrare almeno secondo le mie regole ovviamente ok cattivo effettivamente vabbè se mi rompe entro di nuovo non è un problema su axi non sono entrato perché su axi mi deve rompere quel preciso livello per entrare cioè chiudendo con il corpo al di sopra di questo livello adesso aspettiamo la rottura di questo quindi su axi come vedete non sono entrato mentre qui vi faccio vedere una cosa ecco qua operazioni in blocco chiudi tutte le operazioni ok volevo vedere da pc come si faceva perché non l'ho mai chiuse tutte in blocco da pc se riusciamo a fare l'operazione come la dico io ci riusciamo a tirare su un bel po non soltanto i due 80 però speriamo che ci riesca dai ovviamente se sale se sperando che sale potremmo chiudere tutte quelle altre e lasciare l'ultima più bassa l'aperta ovviamente ma c'è un ma ovviamente qual è questo ma che quando andiamo a chiudere in blocco c'è se sono più di dieci operazioni dobbiamo stare lì con la x qui in basso a chiudercele una per volta lasciando l'ultima quindi cioè se faccio la chiusura in blocco invece me le chiude tutte quindi è un po una rottura di cazzo in sostanza se vogliamo fare questo però ovviamente quando so che lo devo fare lo faccio cioè nel senso se c'è un bel ritracciamento un bel ritest della zona e devo fare questo lo faccio non ci rompe ancora quest'area mancano due minuti e 19 purtroppo questa operazione non è proprio come dico io avete visto c'è drawdown praticamente zero abbiamo già fatto profitto tutto bello tutto ok però non è una di quelle che dico io quindi forse mi converrebbe chiudere cioè quelle che intendo io praticamente che la rottura magari già me la andava a fare con questa candela qua quindi avevamo già un altro tipo di sicurezza mentre così è partita già forse un po troppo spinta quindi abbiamo lasciato tra virgolette un po di profitto a casa lasciato in che senso voi dite ma come se entrato te lo sei preso il profitto si ma se entravo con 10 operazioni ne facevo di più e in questo tipo di operazione non mi ha dato proprio il tempo di entrare con 10 operazioni se mentre mi andava a fare un retest allora ci stava però sono curioso mancano ancora 50 secondi e magari ok ormai siamo dentro ma va bene così qui con axi non sono ancora entrato non so se si vedrà mai forse si mette a fuoco non sono ancora entrato comunque fidatevi adesso quello che vi dicevo anzi lo provo a fare ecco qua ce ne possiamo chiudere tra virgolette tutte tranne quella più in basso minchia quanto ci vuole a chiudere in operazione ecco qua ecco qui come parte io su axi sono entrato by aspettate che vi voglio far vedere l'operazione ecco qui su axi sono entrato by e siamo 4 5 6 euro sotto ovviamente considerando lo spread considerando tutto comunque qui vi dicevo ce le chiudiamo tutte ne possiamo lasciare una sola aperta questa qui ci possiamo mettere tranquillamente a break even e lasciarla così oppure chiuderla e portarcela a casa io vi dico la verità se dobbiamo fare le cose le facciamo fatte bene adesso che ho fatto l'esempio di quella sono rientrato perché per me può salire ancora però nel caso ci vado a fare un retest in questa zona qui c'è un un pennarello una roba qualcosa mettiamoci questo dai che bello se mi va a fare un retest in questa zona no ma che cazzo ho messo la freccia che scende no voglio quella che sale freccia su se mi va a fare un retest in questa zona aprirei un altro bel by cioè sulla zona diciamo quella di entrata dai ora vediamo vediamo come si muove se parte subito se ci va a fare sto famoso retest eccolo qui allora su un axi siamo anche qui in profitto poca roba qui potremmo ancora una volta chiuderci anche queste forse una più bassa lasciarla anche qui in questo caso aperta anche se non mi sto impegnando più di tanto cioè vi giuro a volte a volte ne apro anche 20 però non lo so perché ecco ha fatto un movimento veramente troppo forte su axi è andato un po giù un dollaro di profitto un dollaro e 50 eravamo arrivati a 3 4 dollari di profitto adesso siamo a circa 2 dollari e 30 3 dollari 3 dollari e 30 4 e 50 4 e 60 vorrei fare la grafica di tutte e due i per 7 8 7 80 dai la chiudo la chiudo 7 90 7 e 90 di profitto vediamo se si vede va bene vi metto lo screen vi metto lo screen ve lo prometto anzi me lo faccio adesso che sono le 14 e 12 minuti mi faccio lo screen qui siamo a più di 5 passa euro di profitto 5 euro mettiamo a brecchi ve ne lasciamo con no chiudiamo dai ma che cazzo ce ne frega comunque sia queste sono le statistiche vediamo se ci fa un se c'è giorno in tempo reale le statistiche di ftmo allora aggiorniamole non so se le aggiorno in tempo reale sinceramente penso di sì però non dovrebbero esserci problemi dai è durato anche abbastanza poco come video perché avevo paura di stare qui con la telecamera accesa e accesa e accesa però dai anche meno abbiamo messo più tempo a a elaborare i dati di ftmo che fare profitto comunque xao continua a stare ok allora ok non so se l'ha considerata la consenza vabbè 4 si ok sei aggiornata le statistiche si sono sempre queste ecco qui 21 dollari di profitto non capisco perché il profit share non capisco perché il win rate è forse più basso di ieri anche se ho chiuso altre 10 operazioni in profitto non ho idea ma questa cosa la vedremo la vedremo la chiariremo comunque sia come avete visto allora passiamo adesso al grafico e andiamoci ad analizzare questa operazione io ce l'avevo sull'altro schermo dove vai dove vai allora andiamo a spiegare questa operazione qui molto molto in modo molto semplice in modo molto semplice poi ci sono comunque come dicevo ieri dei ragionamenti qui avevamo questa forza buy io aspettavo questo livello che veniva venisse rotto lo aspettavo qui ma come vedete se mi dà le spike non lo vado a considerare aspettavo quest'altro aspettavo quest'altro e ancora spike quindi non entravo quindi aspettato quest'altro e perché qui sono entrato nonostante mi ha dato le spike cioè l'ingresso esatto come dico durante il video è questo infatti su axi io sono entrato qui però perché lì ero già entrato qui perché semplicemente molto semplicemente questo livello qua dove io già stavo aspettando in precedenza la rottura vabbè circa tutta questa zona qua me la vado a evidenziare di azzurro come vedete corrisponde a circa vabbè questa questa vogliamo tenere in considerazione questa ai 2650 tondi tondi quindi io quando ho visto questo ho visto che c'era forza buy anche qui c'era forza buy e cosa ha fatto mi ha ributtato il prezzo giù quindi ho detto sta discesa mi è andata a generare qualche minimo interessante no può essere stata soltanto una reazione dovuta a questo prezzo livello di prezzo psicologico quindi semplicemente cosa ho fatto ho detto se ritorna lì con forza se ci ritorna in questa zona con forza e la va a rompere rientro qua mi ha dato quest'altra reazione con questa candela rossa mi aspettavo un'altra reazione mi ha creato un nuovo minimo no c'è ancora forza per salire si si va a buy ragazzi c'è poco c'è poco da fare cioè sono più forti i buyers ci piazziamo con loro ovviamente vabbè qui siamo entrati qui siamo entrati qui con il suo axis è entrato qui e così ho già chiuso ma come vi ho fatto vedere volendo noi su questo livello o su questo livello o su questo livello dove volevamo ci potevamo lasciare una sola operazione mettercela break even usare un trailing stop e farcelo salire man mano che sale se sale adesso non so bene a che livelli siamo ce lo andiamo a vedere a time frame più alti anzi mi terrei forse come buono è questo già un bel livello interessante allora questo video vabbè lo sto registrando ovviamente dopo e come avevamo segnato questo livello detto mi piaceva questo come target ha reagito alla perfezione praticamente qui sarebbe interessante sarebbe stato interessante entrare short però secondo me queste sono un po più difficili come entrate quindi magari queste magari le spiegheremo più avanti e dire meglio come al solito portare profitto a casa come avete visto anche oggi abbiamo fatto un'analisi di un'operazione non so se durante la giornata ne farò altre ma non credo proprio quindi noi ci vediamo al prossimo video